Procediamo alla firma del contratto di partecipazione della Spagna ad Expo Milano 2015. Firma del convenio di partecipazione di Spagna in la Expo Milano 2015. Firmano il commissario unico per l'Expo 2015 ed amministratore delegato di Società Expo Milano 2015 Giuseppe Sala. Firma il commissario principale per l'Expo 2015 e amministratore delegato di Società Expo Milano 2015 Giuseppe Sala. Il commissario generale della Spagna per l'Expo 2015 e presidente di Aszione Culturale Spagnola Teresa Lizaranzo. La comissaria generale della Spagna per l'Expo 2015 e presidenta della Associazione Culturale Spagnola Teresa Lizaranzo. Grazie. 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 Allora inizio la conferenza stampa del presidente Enrico Letta e del presidente del governo spagnolo Rajoy. dai tanti punti in comune che sono immersi nella nostra discussione di oggi e che sono poi evidenziati nella dichiarazione congiunta. Innanzitutto i nostri due Paesi stanno vivendo una fase, entrambi, nella quale possiamo dire con soddisfazione che le politiche fatte hanno consentito e ci consentono di guardare al futuro con maggior fiducia e ottimismo. In particolare questo anno 2014 inizia sia per la Spagna sia per l'Italia senza avere addosso la tempesta finanziaria come leitmotiv delle nostre azioni. La Spagna e l'Italia hanno avuto alla fine dell'anno scorso, quindi nell'ultimo trimestre del 2013, dati che confermano la ripresa della crescita. E ci aspettiamo nell'anno 2014 un anno di crescita sia in Spagna che in Italia. Questo è sicuramente per noi un elemento importante ed è un elemento che vogliamo consegnare all'intera Unione Europea, perché riteniamo che la legislatura che si apre dopo le elezioni europee di maggio possa essere la legislatura della crescita. Ed ecco perché attorno a questo tema abbiamo toccato insieme molti punti nella nostra discussione. Vogliamo che la legislatura che inizierà con il mese di giugno e quindi il semestre italiano del primo di luglio apra una legislatura che sia la legislatura della crescita e dell'occupazione, dopo che dal 2009 fino adesso, 2014, noi abbiamo vissuto invece una legislatura intera tutta concentrata su solamente austerità e emergenza finanziaria. Oggi ci sono le condizioni perché si apra invece una legislatura europea centrata su crescita e occupazione e noi vogliamo lavorare in questa direzione. Per lavorare in questa direzione il punto di riferimento che ci accomuna è l'obiettivo delle quattro unioni. Noi vogliamo realizzare l'unione bancaria, vogliamo realizzare l'unione fiscale, vogliamo realizzare l'unione economica e vogliamo realizzare l'unione politica. Innanzitutto l'unione bancaria. Abbiamo condiviso la soddisfazione per il risultato di dicembre del Consiglio europeo che ha deciso, che ha preso delle decisioni importanti sul meccanismo unico di risoluzione bancaria, però oggi da qui, da Roma, vogliamo dare un messaggio molto forte a livello europeo, mentre è riunito l'Ecofin e l'Eurogruppo a Bruxelles, noi vogliamo dire con grande forza si chiuda l'unione bancaria dentro questa legislatura. Non si sposti la chiusura della vicenda alla prossima legislatura del Parlamento europeo. Sarebbe un segnale pessimo e noi non vogliamo dare questo segnale ai mercati. Mercati che hanno dato sicuramente dei risultati positivi agli sforzi di Spagna e Italia, mercati che però proprio sui tassi di interesse hanno dimostrato in questi ultimi giorni come è bastato il vento di una crisi in Argentina per dare il segno ancora di una volatilità dei mercati, dei tassi di interesse. E quindi, a maggior ragione, noi diciamo, è necessario che il meccanismo unico di risoluzione bancaria venga approvato nel rapporto tra Consiglio, Commissione e Parlamento europeo entro questa legislatura del Parlamento europeo. E sarebbe un errore se si dovesse spostare alla prossima. E questo messaggio Spagna e Italia lo danno qui da Roma in modo molto, molto, molto forte. Così come anche la spinta e lo stimolo che noi vogliamo dare a far sì che nei prossimi mesi l'Unione europea lavori sempre di più proprio su quei terreni della lotta alla disoccupazione giovanile, a luglio qui a Roma il vertice dei capi di Stato e di Governo e dei Ministri del Lavoro affronterà un ulteriore passo avanti in quel processo che si è sviluppato l'anno scorso con gli incontri di Berlino, di Parigi, di Roma e di Madrid che hanno affrontato a diversi livelli questa grande emergenza. Per noi la lotta alla disoccupazione giovanile a livello europeo e anche nei nostri Paesi rappresenta la grandissima priorità. E quindi ognuno di noi è impegnato in questa direzione, ma ognuno di noi vuole lavorare perché a livello europeo non ci sia contenti della partenza della cosiddetta garanzia per i giovani, ma si facciano ulteriori passi avanti. Così come riteniamo che a livello europeo il lavoro perché il finanziamento alle piccole e medie imprese trovi degli strumenti più forti e innovativi. Crediamo che quanto fatto fino adesso sicuramente vada nella buona direzione ma sia ancora troppo poco. Abbiamo lungamente parlato dei temi industriali legati all'energia, legati allo sviluppo dell'industria e in particolare la nostra attenzione al credito per le piccole e medie imprese, alle politiche energetiche, ci siamo soffermati su molti di questi punti e molti di questi temi. Abbiamo lungamente parlato delle altre emergenze europee e in particolare dei temi sui quali Spagna e Italia tradizionalmente svolgono un lavoro comune e sui quali l'Italia vuole fare della sua presidenza dal 1 luglio una presidenza per certi versi che sia congiunta, che ci porte a lavorare insieme. Penso alla questione del Mediterraneo e delle migrazioni che riteniamo essere sicuramente saranno uno dei punti chiave del lavoro che svolgeremo insieme e ovviamente del lavoro che nel Consiglio europeo di giugno, quando affronteremo questa tematica, ci vedranno sicuramente insieme. Voglio aggiungere in questo momento così particolare anche la preoccupazione comune che Spagna e Italia vogliono esprimere sulla situazione drammatica che si sta sviluppando in Ucraina. Per quanto ci riguarda è intollerabile il ricorso alla violenza che si è sviluppato in quel Paese, le porte dell'Europa sono aperte all'avvicinamento e un giorno all'ingresso dell'Ucraina e chiediamo quindi, lo chiederà con forza Lady Ashton giovedì a Kiev, chiediamo con forza che il dialogo riesca a recuperare e a superare questa situazione drammatica di ricorso alla violenza che vede ai confini dell'Europa, sull'Europa, un grande Paese come l'Ucraina dividersi e vivere spargimenti di sangue come quelli che abbiamo vissuti. Infine, su alcuni temi congiunti, di lavoro congiunto, abbiamo espresso, esprimo anch'io soddisfazione per un lavoro molto forte e serio che abbiamo fatto insieme. Penso ai temi della difesa. Spagna e Italia lavorano su molti teatri complessi, difficili della politica internazionale. In Libano siamo insieme, gomito a gomito, e abbiamo lavorato e lavoriamo e continuiamo a lavorare benissimo. La stessa cosa vale in Afghanistan, la stessa cosa avviene a Djibouti. Credo che questo sia un punto essenziale e sono molto grato al Presidente Rajoy anche per le parole di profonda solidarietà e anche per il lavoro congiunto che Spagna e Italia possono fare per rendere ancora più evidente la particolarità della situazione che l'Italia sta vivendo nel rapporto con l'India per quanto riguarda i nostri due fucilieri di Marina, la Torre e Girone. Abbiamo con grande soddisfazione assistito alla firma qui della partecipazione della Spagna a Expo 2015 Milano. Per noi Expo 2015 Milano rappresenta sicuramente una delle più grandi priorità di questi tempi sia per l'argomento il cibo, l'alimentazione, la sicurezza alimentare, sia perché per l'Italia rappresenta un fortissimo volano di sviluppo che sicuramente ci aiuterà in tutto quest'anno a raggiungere quei risultati di crescita almeno all'1% e arrivare al 2% di crescita l'anno prossimo grazie anche all'Expo, cosa che rappresenta per l'appunto il nostro obiettivo fondamentale. E infine abbiamo, non sto a citare tutti i temi di tipo bilaterale che abbiamo toccato, sarebbero tantissimi dai temi della salute ai temi della ricerca, ai temi delle infrastrutture, questioni molto importanti. Voglio però citare un impegno congiunto che Spagna e Italia stanno da alcune settimane portando avanti, che riguarda la questione controversa tra il consorzio industriale di logistica spagnolo-italiano e l'autorità del canale di Panama. Riteniamo che sia assolutamente fondamentale che si riesca a risolvere questa controversia, è un interesse primario per l'Italia, è un interesse primario per la Spagna, sono convinto che questo interesse primario per la Spagna e per l'Italia troverà sicuramente, ne siamo convinti, soluzione nei tempi più brevi possibile, perché non è possibile appunto che questa vicenda invece trovi una situazione controversa come è quella che abbiamo vissuto fino adesso. Quindi caro Mariano, grazie ancora per la tua presenza, grazie per la vostra amicizia e confermo ancora una volta quanto il rapporto così sintonico e forte tra Spagna e Italia faccia bene a un'Europa che sia più orientata alla crescita e all'occupazione e in questo senso lavoreremo anche nei prossimi mesi. A te la parola. Grazie e signori, muy buonas tardi a tutti. Bien, quisiera comenzar queste parole, che necessariamente hanno di essere brevi, perché il Presidente Letta ha explicato molto bene quali fossero gli accordi più importanti a cui abbiamo arrivato nel giorno di oggi e i temi che abbiamo tratato a lo largo di le diverse diverse riunioni che si hanno celebrato tanto per i presidenti del Consello di Ministri come per i differenti ministri e secretari di Estado. Quisiera comenzar questa intervenzione agradeciendone al Presidente del Consello di Ministri della Repubblica Italiana Enrico Letta su magnifica accogida, anche a i ministri e secretari di Estado e a tutti i suoi collaboratori. E voglio dire che oggi una volta più ho potuto e constatare che abbiamo una volontà inequivoca di continuare estrechando i intensi lazos che existono tra nostri due nazioni. Bien, come ricordaranno voi, nel 2012, in Madrid, recuperavamo la costumbre di celebrare queste cumbri bilaterali di maniera regolare e, a pesar di che questa cumbre tuvo che essere posposta il passato mese di dicembre per la celebrazione dei funerali di Nelson Mandela, nostro compromesso è forte e solo un mes dopo ci siamo oggi qui, in Roma. Come ha signato il Presidente Letta, además di le questioni in la declarazione formal di la cumbria, durante la nostra riunione abbiamo accordato di llevar a cabo una accione comun ante le istituzioni europee per lo seguente. Primero, per impulsare la politica industriale. In secondo lugar, per promover il lavoro juvenile in tutta la Unione Europea, più allà dei strumenti già existenti come può essere la Iniciativa Juvenile. Ambos le diamo molta importanza a la Cumbria Europea sobre l'Emplio Juvenile che tendrà l'occhio qui, in Italia, il prossimo mes di julio. In tercer lugar, ambos estamos di accordo e lavoreremo conjuntamente in continuare per la senda della integrazione europea a livello economico, fiscal e politico, in queste 4 unioni, junto con la bancaria. E, per ultimo, anche ha habito un accordo, e è un accordo che nace di la conviczione di che è lo che hai che fare, che è accelerare la puesta in marcha della Unione Bancaria. Bien, questi accordi sono una muestra clara di la utilità di queste cumbri. Come ho detto in la declarazione conjunta che si ho distribuito, in resumen, i sui risultati sono lì, così mi limitarò a destacare i aspetti più importanti che ho tratato con il Presidente Letta. In primer lugar, come saben, e ho ricordato, oggi abbiamo firmato la participazione di España in l'exposizione universale di Milano che tendrà l'occhio in 2015 e che sarà dedicato al desarrollo sostenibile e alla alimentazione. España, come ricordaranno, o Italia, fu uno dei participanti più importanti della Expo di Zaragoza e per l'Espania sarà un honor poter participar in la di Milano, che siamo assolutamente convenciti di che sarà un'èxito. Gran parte di nostra riunione la abbiamo dedicato alla agenda europea, sobre la che abbiamo una perfetta sintonia. Creiamo che la salita della crisi exige una maggior integrazione economica e politica e, per l'altro, una agenda di reformi nazionali e europei. Nosotros vamos a continuare applicando nostra ambiciosa agenda di reformi, di cui abbiamo avvislumbrato i primi frutti a lo largo di la legislatura. Mi consta che il governo italiano funziona in la stessa direzione e le deseo al presidente Letta il maggior di i esitoli, da la conviczione di che solo uniti possiamo superare questa crisi. Se vocês mirano hacia atrás, recordaranno che hace poco più di un anno in Europa si parlava del rescate di alcuni paesi, entre altri, di España. Se parlava del futuro del euro, che alcuni ponivano in tela di juizio. Se parlava di le elevatissime primi di rischio e del prezzo che, per la finanziazione, per finanziarsi, tenivano che pagare alcuni paesi come il mio. Se parlava di desempello, se parlava di falta di crescimento e di poca competitività. Un anno dopo tutto questo, non si parlava di un'altra di juizio la existenza del euro. Non si parlava con la misma intensità che antes delle primi di rischio, anche a tutti nos gustaría che seguirano bajando. Non si parlava del rescate di niente. Non si parlava di ausenza di crescimento, non si parlava di ausenza di crescimento, non si parlava, come ricordava il presidente Letta, di che si inicia una etapa di crescimento, non si stabilizza la situazione del empleo. E io credo che il futuro lo podemos vedere con una certa esperanza, anche tendremo che seguir facendo tutti i governi grandi esforzi. Però è lo certo, che io sto assolutamente convencido di che questo anno, 2014, già sarà un anno di crescimento economico e di creazione di empleo in molti paesi della Unione Europea, e nel 2015 questa situazione si va a consolidare di maniera definitiva. Bueno, tutto questo è molto importante. Questo non vuole dire che non seguiamo tenendo che fare un gran esforzo, però, di ovvero, anche vuole dire che gli esforzi acabano producendo risultati. Come ho detto con anteriorità, vogliamo che la Unione Bancaria sia una realtà quanto antes, visto che è un instrumento imprescindibile per superare la fragmentazione dei mercati e le difficoltà di accesso al crédito delle pymes, così come il círculo vicioso della d'euda bancaria, d'euda soberana. Hai un altro dato importante. In dicembre abbiamo alcanzato un accordo sobre il meccanismo unico di resoluzione. È una buona notizia e ambos stiamo di accordo in che sia deseabile che il Parlamento Europeo lo ratifiqui con prontitud. També abbiamo acordato, se lo dice al principio di mia intervenzione e in la sua, il presidente Enrico Letta, impulsare i temati piloti della necessaria reforma alla Unione Econòmica e Monetaria, es decir, la integrazione economica, fiscal e politica. Nostro objetivo prioritario deve essere e seguirà il empleo juvenil, così come il apoyo a le piccole e le piccole e le piccole e le piccole le piccole e le piccole che giochano un papel esenziale in la economia europea, tanto in termini di valor aggiudito come in empleo. In España, ma del 80% di persone che lavorano lo facendo in una piccole e le piccole e le piccole e le piccole le piccole. coordinare la nostra azione de cara al Consello Europeo di marzo, dove si trattano temi importanti, come la politica industrial, il cambio climatico e la politica energética della Unione Europea. Este è un tema molto importante, la energia in Estados Unidos è molto più barata che nel conjunto della Unione Europea, exactamente la mitad, questo è un elemento di competitività fondamentale per la nostra industria e per la generazione di empleo e, per tanto, è un asunto al cui debemos prestar la máxima atención. Tambien abbiamo parlato di altro tema che a tutti nos preoccupa, a unos di una forma, a otros di otra manera, però a los paesi del Mediterraneo è qualcosa con cui abbiamo convivuto a lo largo dei ultimi anni, che è la politica di immigrazione. Queremo, per parte della Unione Europea, una maggior implicazione e creiamo che nel medio e largo plazo non hai più soluzione che aiutare a questi paesi di dove molta gente sale perché non ha altra alternativa in sua vita, credo che si può fare e credo che la Unione Europea formata per 28 Stati ha la capacità economica sufficiente, la forza, la potenza e tutto lo che è necessario per aiutare a migliorare questi paesi e al mismo tempo per costruire. Per ultimo, abbiamo toccato diversi asunti di lo che è la politica internacional, si ha referito a ellos il Presidente Leta, io per tanto non vorrei a insistire, abbiamo parlato di Siria, non sono conversazioni facili le che stanno tenendo luce in Ginevra, però sì, per lo meno, abbiamo visto qualcosa, come è la circunstanza di un corredor per a che abbia un corredor la ayuda humanitaria a muchísima gente che sta in suo paese desplazato o che ha tenido che irse a altri paesi come Líbano o Jordania che hanno molte difficoltà per acoglierlo a tutti. Tambien abbiamo parlato di Irán, del processo di pazza tra i israeli e palestini, di Libia e anche, come ha detto, il presidente Letta in sua intervenzione di Ucraina. Bene, signor e signori, ho finito la mia intervenzione. Quiero facerlo dando las gracias una vez más al presidente Letta e a tutti i sui collaboratori, dicendo a tutti que le relazioni tra Italia e España sono in un momento magnifico, che speriamo che continuano così durante molti anni e che siamo disposti a lavorare con il resto dei paesi europei per superare questa crisi e lo facciamo, come ho detto antes, con la fuerza che ci ha dato il ver come molte delle decisioni che già si hanno fatto in prima e che continuano a produire frutti. Muchas gracias. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, premier ministro italiano. Una pregunta en clave económica, se me permiten, para ambos. Han dicho que han tratato el asunto del Canal de Panamá. No sé si han ido más allá de algo más concreto, de alguna intervención concreta sobre este asunto que ha interesse empresarial repartido entre ambos países. En clave económica también, la crisi della divisa en Argentina le preoccupa che si estenda come si sta estendendo in los mercados europeos. E poi, se me permette, signor Rajoy, conoscere la renuncia di mayor oreja per encabezare la lista del Parlamento europeo, lamenta questa decisione. È una coincidencia che ha coincidito con la renuncia di Vidal Quadras. Muchas gracias. Sulla questione di Panamá di Panamá abbiamo non soltanto voluto affrontare questo tema ma abbiamo voluto anche dare qui attraverso di voi attraverso i rappresentanti della stampa un messaggio molto forte che io penso arriverà con altrettanta forza fino a Panamá credo che sia molto importante che una soluzione sia rapida e che una soluzione sia giusta ed equa. Noi questo ci aspettiamo. I nostri ministri, i nostri due ministri ringrazio moltissimo la ministra spagnola che era a Panamá qualche settimana fa hanno e stanno operando congiuntamente quindi abbiamo dato a loro il mandato di essere il più attivi e il più presenti possibili su un dossier che per quanto ci riguarda rappresenta oggi una delle emergenze prioritarie. Per quello che riguarda l'Argentina è evidente che un po' di preoccupazione c'è però io sono anche convinto che se la crisi argentina fosse capitata un anno fa oggi saremmo qui in ben altra condizione di preoccupazione. La crisi le preoccupazioni sull'Argentina che emergono oggi trovano una Unione europea che è molto più solida trovano un euro che è sicuramente più solido e trovano una maggiore capacità di far fronte a questo tipo di preoccupazioni e quindi io sono convinto che si riuscirà ad affrontarle si riuscirà ad affrontarle nel modo migliore possibile. Ben, muchas grazie. En realtà la resposta che vorrei a la prima di su preguntas la construzione del Canal del Panamá è exactamente la misma che ha dato il presidente Letta a noi stiamo seguendo molto le negociazioni in curso abbiamo la esperanza di che producir una soluzione rápida e pronto e creiamo che in espera della sentenza arbitral la conclusione de los trabajos en la fecha prevista è per lo che debemos apostar creiamo che in questo momento un bloqueo de los trabajos seria un perjuicio irracionable e grave e che non debiera producirse en relación al asunto de Argentina io estoy de acuerdo la situazione del euro è molto diferente che la che teniamo lo detto hace escasos minutos hace poco más de un anno en cualquier caso io si quiero dicir che speriamo che la situazione in Argentina se stabilice quanto antes io spero che sia così Argentina è un gran paese è un paese amico nos unen todo tipo relazioni de todo tipo non solo le historiche le personale le afective anche le hai moltes empresas españolas che hanno hecho inversiones importantes en Argentina che están ahí para quedarse che están trabajando teniendo per tanto insisto deseiamo che le cose se arreglen a la mayor celeridad possibile che la situazione se stabilice però il euro tiene la potenza sufficiente per continuare adellanti in relation a la tercera pregunta che è una pregunta sobre temas específicamente españoles io he parlato con Jaime Mayor Oreja hace algunos días sobre questo asunto ho ho parlare il pasado jueves la prima vez fue antes de la reunión que tuvimos en Toledo él ya me manifestó su voluntad yo lógicamente tengo que respetarla ya lleva diez años en el parlamento europeo tengo de Jaime Mayor como todo el mundo sabe la mejor opinión nos conocemos desde hace mucho tiempo hemos formado parte en la oposición de un equipo que trabajó mucho en la década de los 90 después hemos coincidido del interior ha sido un excelente portavoz del grupo parlamentario popular en el parlamento tanto en Bruselas como en Estrasburgo y bueno a partir de ahí él ha tomado esta decisión y lógicamente pues todos debemos respetarla él sigue con nosotros y estoy convencido de que seguirá en la actividad política yo de la otra persona a la que usted se refiere no puedo hablar porque lo he visto hoy en un medio de comunicación pero desde luego no hilo ni junto ninguna cosa con la otra creo que son dos cosas diferentes del livello de euroscetticismo que está montando nelle nostre opinioni pubbliche e non facciamo delle scelte que risolvano la paura que hay parte de cittadini europeos que troppo potere a Bruxelles senza risultati finisce per creare la convención que Bruxelles sea el problema e no la solución como yo son convinto que Bruxelles es la solución y no el problema Bruxelles intendo europea dobbiamo fare in modo che funzioni un meccanismo che dia fiducia ai cittadini che a Bruxelles dentro l'Unione europea si assumano le decisioni che è giusto che si assumano a quel livello tante decisioni ebbene che si assumano a livelli diversi perché la Spagna ha esigenze diverse dall'Italia l'Italia ha esigenze diverse dall'Olanda e quindi è benissimo che la sussidiarietà si applichi e io penso che la sussidiarietà non sia alternativa all'integrazione credo che ci sia bisogno di più Europa in alcuni campi l'Unione bancaria è uno di questi sicuramente i temi della crescita sono altri ma ci sono molte altre questioni sulle quali ogni singolo paese può benissimo fare scelte legate a sue specificità nazionali quindi io non vedo questo esercizio in corso da parte olandese come un esercizio contro l'integrazione europea anzi trovo assonanze io sarò all'AIA il 20 di febbraio a discutere proprio con Mark Ruth e Timmermans di questi temi perché ritengo invece che ci possa essere su questi punti una sintonia e perché noi italiani siamo a favore di una applicazione dell'idea della sussidiarietà alcune scelte si prendono in basso altre scelte si prendono a livello europeo e a Bruxelles e soprattutto è miope oggi una leadership politica che non veda l'euroscetticismo montante a questo euroscetticismo montante possono essere date tre risposte la risposta dei populisti che lisciano il pelo a questo euroscetticismo e sperano di lucrarne voti la risposta degli struzzi di coloro che semplicemente messano la testa sotto la sabbia fanno finta di niente e continuano a parlare dell'Europa come era venti anni fa o soltanto dieci anni fa e invece c'è una risposta pragmatica di coloro che ritengono che l'Europa sia la soluzione e non il problema ma che ci sia bisogno di un'Europa efficiente non burocratica e in grado di affrontare in tempi certi la soluzione dei problemi per questa Europa noi ci battiamo e per questa Europa lottiamo bene usted nel fondo acaba di preguntar sobre il futuro dell'Europa in fin che come è naturale e tutto il mondo entiende è un tema molto importante e che è molto difficile di risolvere in tre minuti però io vorrei a intenzar dicirle solo due o tre cose che vanno in la misma linea del presidente Letta io parto della base di che per me Europa è mia casa e per me Europa è un espacio di paz di convivencia di libertà di civilizazione e di progresso Europa empezò in certa maniera lo che sono le instituzioni actuali e già dico in certa maniera qui in Roma in 1957 tenia sus precedentes la comunità del carbone e del acero e se vedono lo che sono i anni che hanno transcurruto di 1957 fino a oggi è dicir approssimativamente 50 e tantos anni e lo comparano con i 50 e tantos anni anteriores a 1957 veranno lo che è passato in Europa antes e lo che è passato dopo per me Europa come ho detto è paz è convivencia è libertà è democracia è civilizzazione e è progresso e poi senza dubna tendremo i nostri problemi e difficoltà però l'Europa con tutti questi problemi e difficoltà è il 25% del PIB mondial e siamo 400 millone di persone però un paese dove sono 1.400 millone un paese dove sono 1.000 millone un paese che è Estados Uniti un paese un paese però anche il 25% del PIB mondial e il sino de los tiempos ha establecido con meridiana clarità che questo è un processo di cui almeno in mia opinion è irreversibile per fortuna e avrà cose che sono più compliche avrà cose che corregire hai errori che si cometen però fíjese che ora abbiamo di parlare di la unione bancaria la unione bancaria è una prova inequivoca di la volontà di tutti i europei di seguir lavorare in esa direzione è che i banchi italiani o i banchi españoli non li va supervisare il Banco d'Italia di unione e per e salga noi abbiamo mandato l'altro airbus che disponiamo per che raccogli al príncipe che tenia che che io credo che era precisamente nel giorno di oggi a le Islas Canarias e qui abbiamo utilizzato il plan di incidencii habitual in questi casos bene noi vamos a conocer exactamente che è che ha ocorrido hasta il momento presente ha habito alcun che altro incidente però le cose hanno funzionato sempre razonablemente e c'è molta gente che viaja in esos avioni e lo fa con absoluta tranquillità non hai tomada ninguna decision sobre questo tema l'ogitamente antes hai que tener los dati suficienti per hacerlo però un'anomalia in un indicador de un filtro d'aceite che già sia corregito lo ideal è che queste cose non se produzzano e procuriamo che nel futuro non volvano a tener lugar in quanto a la seconda pregunta il substituto come c'è di lista non lo abbiamo decidito in realtà sono pocos partiti ancora lo che lo decidono però lo decidiremo quando toque non tenemos ninguna difficoltà ni problema en relación con ese asunto Presidente Letta Laura Cannavotici con 24 Mediaset alla vigilia di un questo importante appuntamento europeo il governo italiano perde un altro pezzo il ministro De Girolamo e lei aveva annunciato che si sarebbe presentato a questo appuntamento con un patto impegno 2014 già varato con una legge elettorale già insomma in fase di approvazione mentre invece nessuna delle due cose ci sono e allora io le chiedo come si presenterà in Europa se questa stabilità di governo che è sempre stata la stella polare della sua azione di governo il dividendo della stabilità insomma quello che abbiamo sempre ascoltato se invece a questo punto non si può parlare invece di instabilità dopo questo oggettivo indebolimento del suo governo ma io penso invece di andare mercoledì a Bruxelles con un punto molto importante perché ho sempre ritenuto e ho sempre detto che l'Italia ha bisogno di riforme per la competitività ha bisogno di riforme economiche ma forse una delle principali riforme strutturali di cui l'Italia ha bisogno è la capacità di decidere da parte del suo sistema istituzionale politico e noi abbiamo bisogno in particolare di una nuova legge elettorale e abbiamo bisogno in particolare di risolvere il problema del bicameralismo perfetto del nostro paese e io sono fiducioso del fatto che l'iniziativa che i partiti principali hanno deciso di assumere in particolare il mio partito il partito democratico ha deciso di assumere per una nuova legge elettorale e per sciogliere la grande zavorra il grande problema del bicameralismo perfetto possa arrivare a risultato positivo e il risultato positivo rafforza il governo e rafforza soprattutto l'Italia nel rapporto con il resto d'Europa quindi io conto invece che queste due scelte che sostengo e sostengo con grande forza nuova legge elettorale e fine del bicameralismo perfetto rendano l'Italia più forte ci consentano quindi di affrontare a livello europeo non soltanto le riforme che l'Italia deve presentare ma anche in prospettiva la capacità dell'Italia di guidare il semestre di presidenza e quindi ritengo invece che questo possa essere molto positivo aggiungo che arriviamo a Bruxelles mercoledì forti delle decisioni assunte in materia economica con in particolare un importante pacchetto di privatizzazioni decise e oggi operative e con un importante intervento per la voluntary disclosure per il rientro e l'emersione dei capitali all'estero che è stata valutata e mi sembra giudicata positivamente da tutti gli addetti ai lavori e quindi mi consente e ci consentirà a Bruxelles di presentare le riforme che l'Italia ha intenzione di applicare quest'anno con sono sicuro buon esito e buon successo però ripeto in tutto questo la questione delle riforme istituzionali la legge elettorale e la fine del bicameralismo perfetto rappresentano sicuramente il pilastro principale quindi il più felice se su questi due temi si raggiunge un risultato il più rapidamente possibile sono io e il governo e la capacità quindi dell'Italia di presentarsi a Bruxelles avendo risolto una delle questioni per le quali siamo sempre visti con un pochino di diffidenza cioè un paese che annuncia che discute ma che alla fine fa fatica a decidere e ad applicare le decisioni che assume quindi questo è lo spirito e per quanto mi riguarda il mio spirito è assolutamente costruttivo per aiutare per quel poco che posso fare perché sono decisioni che spettano al Parlamento ma per quel poco che posso fare lavoro per aiutare un buon accordo e una rapida applicazione di queste due riforme grazie 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 grazie